Risolesso se l'è presa comoda, a quanto pare. Ciao, Ping! Hai fame? Già, perché ti devo un pugno ripieno. Soldati! Vi riunirete veloci e in silenzio ogni mattina. Chi si comporterà diversamente, ne risponderà a me. Oh, tosto questo. Yao! Grazie per esserti offerto. Recupera la freccia. La prenderò, bel pupone. E senza togliermi la camicia. Un momento. Sembra che ti manchi qualcosa. Questo rappresenta la disciplina. E questo rappresenta la forza. Vi servono entrambe per raggiungere la freccia. Ne abbiamo di strada da fare. Se cercate un sfatto, io ve lo darò. E anche se voi siete deboli, lavoreremo ancora di più. Si vedrà. Si vedrà l'uomo che non sei tu. La foresta è calma, ma nasconde in sé. Mille più minacce vi trasformerò, fino a farvi poi degli uomini. Sempre pronti a tutto e poi degli eroi come me. Anche voi. Davvero non ne posso più. Qua ci lancerò le penne. Oh, ma che schifo. L'uomo d'innastica. Così li distruggerà. Spero che non se ne accorga. Di nuotare non sarò capace mai. E sarai veloce come veloce il vento. Un uomo vero senza timori. Potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Manca poco tempo. Gli uni ormai son qui. Sopravviverete. Spero, ma non so. Io combatterò, ma senza voi. Quindi va, non servi più. L'uomo che cerco io. Non sei tu. E sarai veloce come veloce il vento. Un uomo vero senza timori. Un uomo vero senza timori. Potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. E sarai veloce come veloce il vento. Un uomo vero senza timori. Potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. E sarai veloce com te. Chiarai veloce. Grazie.